ben tornati benvenuti buonasera a tutti è una serata un po particolare perché la pioggia non favorisce l'uscita di casa oso pensare che forse anche sanremo ci ha condizionati un po io sono molto felice questa sera per questo incontro a cui abbiamo dato il titolo autorizzati a pensare abbiamo rubato il titolo di un discorso alla città del nostro arcivescovo mario del pini cinque anni fa mi pare 2018 in cui provava ad affrontare il tema del cambiamento d'epoca nel quale si rischia di delegare persino il pensiero e allora siamo partiti da questa intuizione e grazie soprattutto a don marcello che poi ci raggiungerà però mi ha lasciato poi introdurre e quindi mi ha anche un po spiazzato grazie a don marcello abbiamo siamo riusciti a contattare il professor magatti chiedo però al professor porro di fare una presentazione perché lo conosce bene e poi dopo riprendo la parola io per introdurre il tema grazie buonasera a tutti in realtà sono pochi quelli che non conoscono bene professor magatti per cui sarò brevissimo mauro magatti è un sociologo di formazione economica la sua prima laurea è in discipline economiche sociali è un bocconiano dopodiché ha un dottorato nel kent se non ricordo male in sociologia ed è diventato un sociologo ha una lunga carriera alle spalle in università cattolica e si è occupato dei temi più diversi in temi in ambito nella riflessione sui destini e sulle evoluzioni dei nostri sistemi di convivenza sui nostri sistemi economico sociali ed economici sicché l'interprete più adeguato io credo per affrontare il tema di questa sera tra l'altro mentre si chiacchierava prima dell'incontro ho visto che è appena uscito per i tipi del murino il credo l'ultima fatica del professor magatti e dichiara giaccardi sua moglie e sociologa dal titolo generare libertà a crescere la vita senza distruggere il mondo a riprova dei temi di cui si occupa il professore voglio però ricordare prima di dargli la parola perché gli stiamo già rubando troppo tempo che mauro magatti è anche un vecchio amico del credito cooperativo perché da tempo è ospite quasi fisso delle convention dei convegni regionali e nazionali del credito cooperativo per cui ci ha anche aiutato più volte a riflettere sul nostro lavoro sul nostro compito sulla nostra evoluzione sul nostro destino le nostre prospettive quindi anche per questo ci mettiamo ad ascoltarlo con attenzione anzi io mi metto tra il pubblico così ascolto meglio grazie io ho incrociato professor magatti in facoltà teologica perché no però non ho seguito il corso e invece ho incrociato sua moglie perché l'avevamo invitata come classe di ordinazione per una riflessione per essere aiutati a riflettere sul tema della famiglia in evoluzione all'inizio si era un po' spaventata perché ci aveva visti in dieci mi avete scomodato poi dopo invece si era trovato a suo agio perché aveva capito che poteva parlare liberamente ecco la stessa libertà ti chiediamo nel aiutarci a entrare in questo mondo dicevo prima usando le parole di papa francesco siamo in un cambiamento d'epoca ma proprio perché siamo dentro abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a interpretare decodificare a comprendere questo cambiamento di cui ci accorgiamo ma che non riusciamo probabilmente molto a dominare i temi che ti chiediamo di toccare sono quelli larghi della politica della società dell'economia e nel sottotitolo abbiamo messo anche in un tempo segnato dall'intelligenza artificiale magari se poi dice qualcosa anche su questo su come siamo condizionati mi taccio anch'io perché è importante ascoltarti adesso e non parlare grazie grazie buonasera a tutti appunto parte sanremo la serata è veramente infame devo dire che sono abbastanza colpito dal fatto che siete così in tanti perché potevamo poteva essere una serata in cui ci trovavamo in tre perché appunto uscire stasera era veramente impegnativo quindi si vede che avete una comunità ben affiatata ovviamente nessun discorso nessuna parola è in grado ci mancherebbe altro di esaurire la comprensione di quello che sta accadendo è una conversazione che possiamo svolgere che dobbiamo svolgere insieme tutti i giorni aiutandoci a decifrare un tempo quello che stiamo vivendo oggi e che stanno vivendo i nostri figli nostri nipoti che vertiginoso da tanti punti di vista con grandi possibilità grandi proiezioni anche verso il futuro quindi ci sono cose naturalmente molto promettenti molto positive ma al tempo stesso non si può negare che pure un tempo che dall'altra parte mette anche un po di paura perché è un tempo dove accadono ci sono tensioni conflitti vicende che i cui esiti ci sono ignoti quindi credo che diciamo i sentimenti anche che che abbiamo ciascuno e un po tutti insieme no siano sentimenti molto ambivalenti rispetto a questo tempo appunto non è un problema di di fare pubblicità un libro che non ha nessun senso ma dirò qualche passaggio che adesso abbiamo messo per iscritto in quest'ultimo libro che proprio uscito tre giorni fa appunto avete sentito sottotitolo a crescere la vita senza distruggere il mondo allora posso provare a dire come noi leggiamo questo momento cosa stiamo cosa stiamo attraversando ecco dato che diciamo l'età media dei presenti in sala sui 25 30 anni più o meno sono adesso va d'occhio no ma più o meno grosso modo siamo tra i 25 e 30 anni ecco allora diciamo c'è capitato di vivere quasi tutti i presenti in sala forse lei no insomma però tendenzialmente anche ora forse c'è qualcuno anche un po più giovane non so comunque c'è capitato di vivere una stagione storica ben precisa quella che è cominciata prima la crisi anni settanta gli anni ottanta la caduta del muro di berlino poi quella grande stagione che abbiamo chiamato globalizzazione no quella cosa lì che è stata una stagione storica enorme perché il mondo in cui negli anni novanta prime anni duemila fino a oggi ha fatto un enorme salto in italia noi ce ne siamo accorti un po meno perché per tante ragioni l'italia è stata abbastanza marginale a questo salto però il mondo viene da una stagione di grandissima accelerazione giusto perché per dare un punto di riferimento no pensate che quella misura molto grezza però che qualcosa ci dice che è il pil cioè la misurazione della della capacità di produzione di ricchezza diciamo a livello mondiale il pil del mondo è raddoppiato tra il 1990 e 2010 e poi aumentato ancora del 70 per cento da 2010 a 2023 questa velocità è qualche cosa che non si è mai visto nella storia cioè storicamente il pil del mondo raddoppiava in millenni poi ci abbiamo messo dei secoli e alla fine del novecento ci abbiamo messo vent'anni quindi noi abbiamo dietro alle spalle una stagione in cui concretamente concretamente miliardi non sono dei numeri così concretamente miliardi di persone hanno si sono sono uscite da una condizione di povertà e si sono mosse nella direzione di un livello di benessere paragonabile a quello dei paesi occidentali non so se è chiaro il punto c'è una cosa enorme soprattutto in cina qualcosa in india qualcosina poco in africa un po in sud america e naturalmente questa cosa questo grande salto poi ha creato tanti scompensi ecco noi siamo dopo quella stagione lì cioè noi stiamo vivendo le conseguenze positive e negative e le risposte che stiamo cercando di dare a queste conseguenze di quella stagione storica che è ruotata attorno a un'idea molto semplice molto potente giusta per alcuni aspetti ma che ci consegna una serie di problematicità qual è l'idea che si è affermata in maniera proprio nitida no? verso la fine del novecento un'idea come dicevo molto semplice e cioè che quello che ci tiene insieme alla fine è rendere possibile la crescita economica dove la crescita economica vuol dire aumentare le possibilità di vita per miliardi di individui e questa è l'idea di crescita economica crescita economica vuol dire noi lavoriamo facciamo inventiamo diciamo l'idea è noi che cosa ci tiene insieme per mettere la crescita economica dove crescita economica si traduce questa è l'idea nell'aumentare le possibilità di vita possibilmente teoricamente per miliardi di individui uso l'espressione possibilità di vita per dire che non si tratta solo di aumentare i consumi avere un'automobile anche ma è un concetto più ampio vuol dire studiare di più vuol dire vivere più a lungo avere una sanità migliore avere più informazione fare più viaggi avere più più matrimoni tante cose e quindi questa è stata l'idea centrale che ha accompagnato questo grande processo di globalizzazione che chi può essere contro in linea di principio all'idea che è bene aumentare le possibilità di vita teoricamente di miliardi di individui chi può essere contro i miei principi c'è una bella idea perché dobbiamo essere contro all'idea di aumentare le possibilità di vita noi oggi in Italia nonostante tutti i problemi che abbiamo la nostra speranza di vita la vita media attesa è per le donne 81 anni e per gli uomini 79 anni nel dopoguerra eravamo 15 anni meno cioè più possibilità di vita vuol dire che si vive più a lungo poi abbiamo tanti altri problemi quindi se uno vuol dire se uno vuole dire questa stagione storica che abbiamo alle spalle è stato un grande successo se uno la dice in questo senso sono aumentate le possibilità di vita per 5 miliardi di individui sulla faccia della terra sì, è stato un grande successo se uno vuol dire così può dire così però questa stagione storica così potente ci consegna come tutte le cose umane che sono sempre ambivalenti in genere ci consegna il conto e naturalmente anche diciamo dei conti sono stati pagati anche nel passato quindi c'è stata una grande espansione qual è il conto che ci consegna il conto che ci consegna lo abbiamo visto con tutta una serie di grandi fenomeni che sono avvenuti la crisi finanziaria con tutte le cose che sono venute dopo il 2007-2008 e l'aumento delle disuguaglianze perché questa accelerazione che c'è stata ha fatto sì che non è che tutti hanno guadagnato la stessa maniera tutti sono andati un po' avanti qualcuno è andato avanti di un metro quell'altro è andato avanti di dieci chilometri le distanze si sono allungate le nostre sostanze si sono allungate è una società che ti chiede di correre sempre perché per aumentare queste possibilità di vita tutto deve essere efficiente tutto deve girare diciamo così e se tu non funzioni è un problema quindi c'è tutto un tema di essere performativi di essere all'altezza non solo dal punto di vista lavorativo ma tutto l'idea è che bisogna essere sempre bisogna essere belli, brillanti, intelligenti dove hai fatto le vacanze? io quando ero ragazzino andavo vivendo a Como ho fatto sempre le vacanze a Montepiato che eri sul lago diciamo hai fatto le vacanze sul lato a Montepiato dici vabbè questo è uno sfigato cioè come fare le vacanze a Montepiato cioè tu non puoi fare le vacanze lì io sono stato alle Maldive sono stato sul Chilimangiaro ho fatto delle robe bellissime questa idea del che questo modello dove tutto cresce dove le possibilità aumentano dove tutti dobbiamo correre dietro perché se no ok quindi in più ci consegna problemi ancora più grandi la questione ambientale perché avere accresciuto così tanto le possibilità di vita dei miliardi degli umani tra parentesi nel 1900 c'erano un miliardo di esseri umani al mondo adesso ce ne sono più di 8 miliardi non so se è chiaro il concetto quindi avere aumentato le possibilità di vita per diversi miliardi di queste persone stiamo imparando faticosamente a capire che questa cosa produce delle conseguenze sull'ecosistema il quale si poi produce a sua volta tutta una serie di problematiche riscaldamento globale le grandi migrazioni con tutte le conseguenze sulle convivenze i rapporti tra le culture e poi adesso i rapporti una volta che un po' la macchinetta si è rotta i rapporti tra le grandi potenze del mondo perché abbiamo immaginato che aumentando i commerci gli scambi economici avrebbero generato un mondo di pace chiaramente la ricetta era un po' semplicistica diciamo così per un po' ha funzionato anche perché c'era un unico soggetto politico che comandava che erano gli Stati Uniti e i suoi alleati adesso che altri paesi dicono vabbè ci siamo anche noi la vicenda si fa complicata evidentemente quindi noi abbiamo vissuto una stagione che dietro alle nostre spalle che ha segnato una potente espansione abbiamo fatto un grande salto adesso siamo entrati in un'epoca in cui dobbiamo gestire un po' le conseguenze di quel salto lì e potremmo diciamo stare qui tutta la sera a elencare appunto i tanti problemi che abbiamo no? quelle ambientali quella disoccupazione problemi della formazione i giovani che potendo desiderare non desiderano perché sono presi dall'ansia dalla paranoia ne si sentono mai all'altezza cioè per noi diciamo più o meno baby boomer no? in cui noi siamo vissuti nel momento in cui diciamo si aprivano un po' i cancelli del desiderio individuale rispetto alle generazioni prima di noi e il momento in cui si è detto dai ciascuno c'ha il proprio desiderio quindi si sono aperti i cancelli tutti ci siamo messi a correre adesso i cancelli sono sparancati e ci sono le nuove generazioni che non sanno dove andare oppure si fanno prendere dall'ansia no? oppure cioè non tutti naturalmente ma molti che è una roba pazzesca no? quindi siamo da un'altra parte siamo da un'altra parte e nessuno sa non lo sa nessuno che cosa accadrà cioè come gestiremo questa nuova situazione no? naturalmente ho detto all'inizio è una situazione piena di rischi basta guardare le tensioni internazionali il Papa Francesco è da diversi anni che parlava di una guerra mondiale a pezzi prima è stato preso così tipo un po' pessimista diciamo così no? adesso preghiamo che la terza guerra mondiale a pezzi non diventi una terza guerra mondiale conclamata quindi ci sono dei rischi evidenti abbiamo appunto la grande questione ambientale in occidente cosa non irrilevante questa cultura che abbiamo generato della crescita dell'individualismo ha raso al suolo il senso religioso che in occidente in particolare in Europa è stato quasi annichilito non a caso in tutto il mondo e non è un caso anche questo è una cosa importante in tutte le grandi confessioni religiose ci sono fortissime spinte fondamentaliste c'è il fondamentalismo nel mondo cattolico c'è il fondamentalismo protestante c'è il fondamentalismo ortodosso c'è il fondamentalismo islamico c'è il fondamentalismo ebraico c'è il fondamentalismo hindu cioè non sarà un caso che in tutte le grandi religioni in questo momento ci sono spinte fondamentaliste perché perché per quanto noi occidentali alcuni sono proprio cretini ma insomma altri fanno finta invece di non capire cioè non è che il nostro modello è il modello della libertà e della democrazia appunto il nostro modello radicalmente nichilista cioè in cui il modello è non c'è più niente se non la crescita economica è la tecnologia e quindi ci sono pezzi di mondo che dicono noi come voi non vogliamo diventare punto vi invito a leggere la lettera che Kirill il capo della chiesa ortodossa ha scritto quando Putin ha attaccato l'Ucraina e ben inteso non giustifica niente ovviamente ma solo per capire il punto che Kirill i rapporti tra lo stato russo e la chiesa ortodossa sono molto diversi perché nel mondo ortodosso c'è sempre stato un rapporto molto stretto tra la chiesa e il potere politico ma Kirill scrive nel 2022 più o meno letteralmente così io ti benedico Putin perché tu vai a fare la vai a riconquistare la nostra amata Kiev che è una delle capitali della nostra cultura russo ortodossa e fai la guerra contro questi occidentali pervertiti e infedeli che non credono più a nulla che hanno la religione del nulla e che si sono permessi nel 2018 di fare a Kiev un gay pride che è un grande rito collettivo appunto di adesione alla religione del nulla scrive più o meno letteralmente così Kirill che ovviamente per evitare equivoci dal mio punto di vista non giustifica certamente nessuna aggressione che è fatta per tante altre ragioni ma noi occidentali dovremmo sforzarci di capire che non è che noi siamo semplicemente il mondo della libertà appunto siamo il mondo della libertà nichilista che rade al suolo tutto come evidente in Europa peraltro e peraltro anche negli Stati Uniti quindi le questioni che abbiamo davanti sono abbastanza complesse nessuno di noi le può risolvere quindi mettiamoci il cuore in pace e tanti saluti si tratta di vivere dentro qua e di creare star dentro un mondo che è più grande di noi e capire come starci dentro per questo che l'invito di Monsignor Delpini di autorizzati a pensare era un invito molto prezioso perché il pensiero cioè cercare di collocarsi senza avere pretese di onnipotenza che sono del tutto smisurate cercare di capire come si può vivere diciamo così in quest'epoca così forte così potente è qualche cosa a cui dovremmo dedicare un po' di tempo ecco poi uno dice vabbè chi se ne frega io faccio le mie cose tutti i giorni e tanti saluti allora proviamo a fare un passettino in avanti dentro questo quadro sono partiti due film cioè dato che gli uomini sono intelligenti anche le donne sono partiti due risposte diciamo no? e quali sono le due risposte? uno è la grande questione della sostenibilità controversa adesso ci sono i trattori in piazza perché gli agricoltori dicono l'Europa diciamo prova a affrontare il problema in un certo modo adesso non entriamo nel dettaglio comunque la questione della sostenibilità che è prima di tutto la questione della sostenibilità ambientale ma poi più in generale la sostenibilità vuol dire che quell'idea lì di cresce cioè quell'idea che è stata no? un momento storico cade il muro di Berlino ci si globalizza tutto cresce ecco quella magia lì non funziona più è del tutto evidente al di là della questione ambientale che noi siamo entrati in un'epoca in cui se tu non lavori per ricreare continuamente le condizioni sociali, demografiche, formative, istituzionali, ambientali se non si lavora per ricreare le condizioni che rendono possibile la crescita economica non c'è più nemmeno la crescita economica la questione sostenibilità è questa qui e questo cambia tutto diciamo quindi da una parte entra questo tema ovviamente l'aggiustamento è problematico limitiamoci al tema ambientale trasformare le nostre economie in occidente e fuori dall'occidente per assumere questo problema che abbiamo detto prima che l'aumento delle possibilità di vita illimitato produce conseguenze devastanti sull'ecosistema questa questione che nel novecento non c'era comunque andrà affrontata ci sono dei costi enormi ci sono quelli che ci guadagnano e quelli che ci perdono quelli che possono affrontare questa transizione e quelli che non possono affrontare i ricchi che vanno da una parte i poveri che dicono vabbè io non ce la faccio io cito sempre quando ci sono state le manifestazioni in Francia nel 2018 c'era un manifesto un manifestante che portava un cartellone che diceva voi pensate alla fine del mondo io penso alla fine del mese bellissimo perché questo è il problema cioè bisogna pensare alla fine del mondo ma bisogna anche pensare alla fine del mese il problema è trovare una composizione è complicata cioè è complicata quindi da una parte c'è questo tema della sostenibilità ripeto che non è solo ambiente è ricreare le condizioni che rendono possibile la crescita economica l'altro film che è partito è quello diciamo diciamo del cambiamento tecnologico associato alla tra virgolette intelligenza artificiale ma che è la fase matura della digitalizzazione che è qualche cosa di molto più radicale di quello che è stato storicamente l'industrializzazione che tutti noi abbiamo studiato le scuole superiori o le scuole medie quando abbiamo studiato che nel 1700 e nel 1800 la fabbrica il motore a scoppio la ferrovia tutti abbiamo il vago ricordo che quando successe quelle cose c'è stato un gran casino no? cioè le cose sono andate avanti ma ci sono stati morti, feriti, un caos ecco noi stiamo vivendo la fase matura della digitalizzazione è un processo molto più radicale dell'industrializzazione molto più radicale destinato a cambiare i modi di produrre i modi di vivere i modi di pensare quindi noi diciamo noi ne vediamo un pezzettino i nostri fili ne vedranno molto di più naturalmente no? ma il processo di digitalizzazione nella sua maturità è un processo diciamo di cui dovremmo cercare di capire come starci dentro sfruttando le tante opportunità che la digitalizzazione renderà possibile e nello stesso tempo limitando invece gli aspetti negativi che come tutte le cose sempre ci sono quindi non si tratta di essere né pro né contro si tratta di cercare di governare un processo che non è che è buono di per sé è buono per alcuni aspetti problematiche per altri quindi i due motori che si sono attivati dentro questa crisi generale sono questi qui della sostenibilità e della digitalizzazione oltre al grande tema che vediamo è che l'ordine internazionale che si è venuto formando dopo la seconda guerra mondiale la divisione tra est e ovest è durato fino al 1989 quindi la seconda guerra mondiale è finita nel 1989 quando l'unione sovietica è crollata l'occidente vincitore è stato il regista unico regista della globalizzazione dopo 30 anni io quando ero bambino faccio due esempi quando ero bambino molti di voi cioè quando eravamo giovani noi gli islamici io non sapevo manco che esistessero e li chiamavamo i maomettani e io mi ricordo che c'erano dei fumetti delle robe strane io non li avevo mai visti gli islamici nemmeno voi non sapevamo manco dove stavano e 1979 c'è stata la rivoluzione dei Khomeini diciamo che è il primo sintomo in cui il mondo islamico che per alcuni secoli aveva perso tutto ed era stato sottomesso all'occidente torna diciamo nella scena della storia e ci sono so che ci sono un miliardo e mezzo di islamici tutta la striscia che va dal Marocco la Tunisia, la Libia tutta la penisola araba il Pakistan arrivare fino all'Indonesia cioè tutta questa striscia di mondo che va giù poi nell'Africa cioè tutta quella striscia di mondo che sono gli islamici non è che sono proprio quattro gatti e non è che possiamo considerarli una massa di incivili perché sono alcuni miliardi di persone e la loro storia per quanto ha avuto un periodo di buio è una storia importante non è che sono sono degli Zulu con rispetto per gli Zulu diciamo così quindi abbiamo da una parte idem la Cina la Cina sapevamo che era là ma chi pensava la Cina è entrata nel VTO nel 2000 capite? ieri mattina e per quanto in questo momento abbia tanti problemi tutti sanno per ragioni di inerzia diciamo così che la Cina tra pochi anni l'economia della Cina sarà più grande dell'economia degli Stati Uniti quindi dopo 30 anni di globalizzazione il problema è costruiamo un ordine globale attraverso una terza guerra mondiale o riusciamo a arrivarci mettendoci d'accordo perché questo è il nodo cioè perché non potrà essere l'ordine globale che si è formato dopo l'89 capite? perché siamo da un'altra parte nella storia noi occidentali siamo disposti a cedere qualche cosa a riconoscere qualcun altro e qualcun altro sarà disposto a riconoscere noi o no? riusciamo a convivere in un pianeta piccolo tra diversi o dobbiamo farci la guerra e ci facciamo il film che noi vinciamo con la Cina che io non capisco neanche cosa voglia dire o i cinesi si immaginano di vincere contro gli occidentali quindi abbiamo la questione della sostenibilità la questione della digitalizzazione e la questione dell'ordine diciamo del rapporto internazionale queste sono le tre grandi questioni che occuperanno una generazione non è che occupano i prossimi tre mesi quindi occuperanno i prossimi 30 anni stiamo parlando diciamo di cose che non è che sono affrontabili ecco dentro vado verso la conclusione poi facciamo un po' di domande cioè dentro questa cosa qui c'è un punto che ci può riguardare noi lo proviamo a dire nel libro sì perché questo noi siamo entrati in un altro secolo ne vediamo solo un pezzettino noi qua ne vedremo solo un pezzettino però forse possiamo diciamo avere qualche responsabilità verso i nostri figli i nostri nipoti no quindi non immaginiamoci che questo sia un mondo che si può aggiustare perché tanto non si aggiusta cioè nel senso che ci mettiamo delle pezze e torniamo a vent'anni fa qual è qual è il punto per noi che poi non è per noi per fortuna ce lo siamo inventati noi abbiamo un leader mondiale che sta dicendo poveretto da anni questa cosa tutte le salse si sbandiere in tutti i modi che si chiama Papa Francesco cosa sta dicendo Papa Francesco poi faccio anche una battuta sul rapporto tra Francesco e Razzini Papa Francesco ci sta dicendo a noi cattolici perché è cattolico e non cattolico sta dicendo una cosa diciamo molto semplice con la Laudato Si prima l'Avangelii Gaudi una Laudato Si fratelli tutti diciamo dice tocca il punto che è all'origine di tutte queste crisi perché tutte queste crisi sono partito da quest'idea no? che era stata l'idea del novecento figlia del secolo precedente crescita economica è aumentare le possibilità di vita per miliardi di singoli individui quest'idea ho detto prima che è un'idea rispetto a cui apparentemente uno dice giusto è un'idea folle è un'idea folle cioè non c'entra niente con la realtà perché? perché le religioni ce lo dicono da alcuni secoli ce l'ha detto a suo modo la psicanalisi e adesso ce lo sta dicendo la scienza da cento anni non da un giorno anche se purtroppo alle scuole superiori si continuano a insegnare la scienza che è diciamo classica e non quella attuale cioè la scienza da cento anni ci dice che non esiste non c'è forma di vita sulla faccia della terra che non sia in relazione con ciò che viene prima con ciò che sta intorno e con ciò che viene dopo cioè tutto l'impianto moderno basato sull'idea della sovranità dell'io della sovranità dell'impresa della sovranità dello stato è radicalmente messo in discussione da quello che noi oggi sappiamo dalla scienza dalla religione quando è capace di pensare e così via e dai fatti e quindi il cuore di questa crisi che è un cuore culturale non è un cuore tecnologico dopo viene anche la tecnologia abbiamo bisogno naturalmente di nuova tecnologia il cuore culturale di questa crisi è riconoscere che l'idea fondativa degli ultimi secoli degli ultimi trent'anni che noi ci immaginiamo come individui come imprese come stati a prescindere dagli altri è un'idea che porta alla distruzione del mondo che noi esistiamo solo in relazione ma cosa vuol dire questo? vuol dire che la questione se così stanno le cose e così stanno le cose non è un tema morale essere buoni essere generosi no cioè non è un tema morale è proprio un tema di intelligenza cioè questa crisi ci sta dicendo che noi dobbiamo fare un passo in avanti noi personalmente e noi come società nella comprensione delle cose riconoscendo il fatto che noi sì siamo in quanto umani è una forma di vita in cui noi siamo liberi liberi ma tu non sei tanto più libero quanto più ti fai il film che decidi sempre per conto tuo fai quel che vuoi qualunque legame ti limita e quindi non sei più libero perché ci siamo fatti questo film no? che tu sei tanto più libero quanto più riesci ogni giorno a ripartire da zero ma sei un deficiente oltre a distruggere il mondo perché la vita è insieme in particolare la forma umana è insieme libertà e legame e libertà e legame non sono contrapposti sono intenzione è una cosa diversa non sono uno il contrario dell'altro ma libertà e legame sono intenzione e quello che noi possiamo fare come esseri umani intelligenti e liberi è decidere come giochiamo questa tensione che vi spiego no? il rapporto tra le generazioni l'italia ha un problema drammatico di invecchiamento di demografia la nostra generazione non parliamo della nostra generazione l'italia continua ad essere un paese che ha una grande ricchezza privata e un grande debito pubblico la ricchezza privata che in italia sono 10 mila miliardi di euro complessivamente ci sono le case del resto ci sono diciamo di queste ci sono 1300 miliardi non di titoli di risparmi diciamo nei depositi bancari proprio di soldi nelle banche diciamo così 1300 miliardi li abbiamo noi diciamo ce li ha la generazione dai 50 anni su il 30-40 per cento diciamo di quelli che stanno bene allora questa generazione noi dobbiamo decidere ci portiamo sti soldi nella tomba li conserviamo per proteggerci dai prossimi rischi oppure decidiamo non di darle alle banche che li mandano in giro per i circuiti finanziari mondiali ma decidiamo di inventarci un modo per cui questi risparmi li investiamo per rendere possibile ai nostri figli e ai nostri nipoti di partire come siamo partiti noi i nostri genitori cioè siamo in grado di creare delle alleanze tra le generazioni per affrontare i problemi e generare qualche cosa che da solo non si genera c'è una cosa molto concreta questo ristabilisce il nesso tra la tua libertà e il legame tra le generazioni sto facendo un esempio no oppure un altro esempio no noi siamo partiti quando ero ragazzo io come voi diciamo l'idea era che siamo si stava in casa poi uscivi di casa tendenzialmente o andavi per conto tuo ti sposavi c'era l'idea del matrimonio che non è che era il mondo sempre proprio così bello come lo raccontavano c'erano tante schifezze anche la ovviamente non è che era proprio tutto un mulino bianco cioè era una roba complicata anche allora comunque siamo partiti da quella roba lì e siamo andati al contrario no cioè in cui ci sono le nuove generazioni che sono convinte dico che qual è l'idea e che poiché io per essere libero non mi posso mai legare quindi io ti voglio bene e te mi vuoi bene però io non posso promettermi prometterti di volerti bene perché ammesso che tu me ne voglia e non sono sicuro di questo il che genera ansia d'altra parte io in questo momento oggi ti voglio bene ma come faccio a sapere se tra un mese cinque anni ti voglio ancora bene se io incontro un'altra persona aperta parentesi aumento delle possibilità di vita chiusa parentesi se io tra cinque anni contro una persona e mi innamoro di quella persona lì e vabbè io sono libero e quindi io in quel momento lì faccio quella roba lì cioè nel senso che noi siamo arrivati a una cultura in cui allora il legame era rigido e spesso uccideva la libertà quindi io non penso che siamo abbiamo abbandonato il mondo idilliaco quel mondo lì aveva tutta una serie di problemi ma siamo arrivati a un punto in cui le nuove generazioni non riescono a capire che diciamo quella posizione lì è una posizione che l'inchioda a essere sempre nello stesso punto cioè la vita non cresce mai non prende mai una forma perché tu sei sempre lì con l'angoscia che se scegli qualche cosa non sei più libero se mi consente il parroco se non scegli non sei libero perché diciamo è come l'artista l'artista nel limite nel limite della cornice fa l'opera d'arte il pasticcione comincia a fare una riga poi la cancella poi ne fa un'altra la cancella alla fine rompe la tela non è che se tu c'è un limite l'opera d'arte sta dentro un limite e il limite è il legame che tu liberamente generi questa cosa è sconosciuta proprio sconosciuta no? allora il punto e questo riguarda è una questione culturale è una questione esistenziale è una questione che interpella naturalmente anche la religione il punto di questa crisi è superare in positivo perché questa è un'evoluzione questa idea delirante dell'individualismo che non è solo delle singole persone ma anche dell'impresa l'impresa che se ne frega dei fumi che butta fuori no? no tu ti devi preoccupare del tuo rapporto con l'ambiente la stessa cosa è una relazione capite? la stessa cosa a livello internazionale come si fa a affrontare la questione delle relazioni internazionali se non riconoscendo che siamo tutti legati e che quindi lo schema delle relazioni internazionali non potrà essere semplicemente quello io sono più forte di te ma sì ma sei più forte di te ma siamo tutti su sto cacchio di pianeta no? cosa vuoi fare? Putin che si immagina di spostare di 300 km queste frontiere dico ma sei scemo? ma in che mondo vivi? ma cosa vuol dire spostare di 300 km le frontiere in un mondo che è diventato unico no? cioè capite? questa logica relazionale la trovate su tutti i piani ma è questo il problema è un salto culturale di consapevolezza tirandola via da un tema morale non è che sei altruista sei intelligente e infatti l'altruismo era diventato diciamo perché poi l'abbiamo preso così ma già gli antichi avevano capito da Aristotele in avanti avevano capito avevano fatto delle riflessioni a proposito del bene ecco noi dobbiamo aggiornare quelle riflessioni al tempo dell'oggi e riuscire a capire che questo tempo ci sollecita sollecita noi ma soprattutto le nuove generazioni se non si prende questa strada qui guardate il conflitto da una parte oppure la verticalizzazione cioè il digitale ci porterà dietro il fatto che i livelli di potere diventano cioè sarà tutto troppo difficile per cui voi adesso mi state ascoltando da tre quarti d'ora avete pure rotti le scatole dici professor Magatti mi ha fatto girare la testa chi se ne frega benissimo l'alternativa al conflitto sarà è troppo difficile per la democrazia qualcuno comanda fuori dall'occidente ci saranno le autocrazie in occidente ci saranno i centri di potere economico politico che col digitale vi faranno fare quel che vogliono loro l'alternativa sono queste due cioè se noi non facciamo il salto culturale l'alternativa è il conflitto o la verticalizzazione non c'è storia perché il salto che abbiamo fatto richiede una intelligenza diffusa più grande ce la faremo boh non lo so se uno si guarda in giro non so se ce la facciamo ma è l'unica possibilità cioè è veramente interessante perché questo è uno sforzo ma io credo che si capisca che è uno sforzo impositivo non è uno sforzo restrittivo non ci vuole meno libertà ce ne vuole di più una libertà più intelligente mi fermo qua grazie per ora adesso apriamo il dibattito mi sono segnato già 5 o 6 domande però non vorrei fare un dialogo ma una conversazione adesso non fatemi spaventare adesso non è che non vi preoccupatevi la storia è lì povero Bergoglio allora intanto voi capite che povero Bergoglio perché qui siamo in un ambiente magari appunto ci sono un po' dei cattolici allora vabbè Ratzinger ha posto il problema cioè ha detto è successa una cosa in quell'epoca che abbiamo descritto cioè lui ha detto che c'è stata questa l'ha detto lui ma l'ha detto anche altri grandi filosofi fino al novecento diciamo con tante tensioni ma comunque c'è stata una relazione tra la ragione e la fede diciamo la ragione l'intelligenza che poi era anche laica così e l'esperienza religiosa e le due cose con qualche difficoltà stavano in rapporto e Ratzinger ha detto guardate che è avvenuto questo scollamento la ragione diventa sempre più ragione tecnica cosa vuol dire? vuol dire che se noi non riusciamo più a intenderci parlando già in famiglia tantomeno cioè io mi auguro che voi non guardiate la televisione è vero? la televisione va presa a martellate cioè se uno ascolta la televisione capisce meno perché è tutto polarizzato continuamente si creano le fazioni e invece di aiutare le persone a cogliere i punti si polarizzano le visioni e ancora di più sui social quindi la ragione la parola e il logos non è più capace di rimetterci insieme la ragione diventa calcolo diventa tecnica 2 più 2 fa 4 su quello siamo d'accordo poi invece se dobbiamo parlare di altre cose ognuno la pensa come vuole e da una parte la ragione si restringe e si distacca dal riferimento religioso quindi Ratzinger ha detto guardate parlando all'occidente che è in atto un cambiamento radicale e questa cosa è foriero di tutta una serie di problemi non solo dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista della convivenza sociale e politica dopo di che è arrivato Bergoglio che non aveva la minima idea di diventare Papa lo dico anche pubblicamente cioè non c'è dubbio che Ratzinger si è dimesso pensando essendo convinto che sarebbe diventato Papa Scola cioè questa era l'idea di Ratzinger perché Ratzinger e Scola erano molto legati ma dato che Ratzinger ha preso una decisione pazzesca come la dimissione di un Papa questa cosa ha creato un tale momento di scompiglio nel conclave che per i giochi dello spirito invece di diventare Scola è diventato Bergoglio in maniera totalmente inattesa quindi questo qui ha 78 anni dall'Argentina che non so se mi spiego si trova a fare il Papa in mezzo a un casino del Vaticano e vabbè vorrei anche che ci mettessimo un po' anche nei panni ed è che nel frattempo ne sono diventate 87 e Bergoglio sta dicendo la seguente cosa quello là è il problema quello di Ratzinger non c'è nessun professore che c'ha la risposta né per risollevare la ragione né tantomeno per rimettere insieme il rapporto tra ragione e fede quindi Bergoglio sta dicendo da dieci anni ai cristiani e agli uomini di buona volta dice in attesa che arrivi qualche professore che intanto non c'è ne ci può essere cominciate a immergervi nella realtà dell'umano che sempre più soffre di questo scollamento immergetevi nella realtà dell'umano e immergendovi nella realtà dell'umano si farà una strada e poi forse un giorno riusciremo a rimettere il rapporto perché quelli che vogliono rimettere insieme religione e ragione in questo momento storico sono i fondamentalisti che dicono guardate è un gran casino quindi bisogna rimettere insieme le cose lo dico io e se tu non fai come ti dico io ti ammazzo cioè che è una roba abbastanza grezza diciamo così e che tendenzialmente non funziona quindi Ratzinger ha posto il problema Bergoglio non dà la soluzione ma indica un percorso che auspicabilmente ci porterà a ridefinire quella relazione in un modo più adeguato diciamo per come l'essere umano oggi ha quindi tra i due papi ci sono tante discontinuità di carattere di cultura di prospettiva ma c'è una fondamentale continuità e questo è importante da dire anche rispetto alla chiesa perché diciamo il tempo che stiamo vivendo l'ho cercato di dire prima è un tempo che ha tanti problemi è un tempo anche radicale rispetto all'esperienza religiosa e anche l'esperienza religiosa è chiamata a rigenerarsi non si può pensare che l'esperienza religiosa dei nostri figli o dei nostri nipoti ammesso che in Europa possa continuare a esistere sia quella dei miei genitori no, non sarà così sarà un'altra esperienza religiosa perché si deve radicare in un altro mondo completamente diverso e quindi bisogna accompagnare non tanto con dei discorsi non tanto con delle affermazioni ma con delle vite perché diciamo come è noto il Vangelo si trasferisce di bocca in bocca di vita in vita augurandoci che i nostri figli comprendendo appunto le sfide che hanno davanti colgano il valore del vivere questi drammi anche queste sfide del nostro tempo anche attraverso l'ispirazione che viene in questo caso dal cristianesimo essendo in Europa chi osa porre domande? chi osa? ecco bravo allora lei era mia compagnia di scuola alle suoi superiori lei l'ho detto prima lei era tutta 9 e 10 io prendevo 7, 7 metri quindi lei è molto più brava di me quindi può osare abbondantemente è vero diciamo le cose come stanno più o meno non esattamente no mi è interessata molto questa cosa soprattutto alcune questioni che mi interessava magari se potete approfondire una era quella della non coincidenza non più coincidenza dell'Occidente con una certa struttura culturale cioè l'Occidente adesso si è scollato due sempre a questo proposito il fatto che mi sembra che per la poca esperienza che ho adesso con i ragazzini più giovani che ci sia anche un problema di inadeguatezza non so come dire tu citavi il logos la capacità di parlare e di pensare che adesso mi sembra ci sia proprio veramente un problema di pensiero anche dovuto al fatto che non c'è più il linguaggio la terza cosa era se rispetto a questo che dicevi adesso di quello che diceva il Papa Francesco a me faceva venire in mente e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu una frase di McIntyre che diceva che nei tempi dell'impero romano agli ultimi tempi dell'impero romano la svolta è venuta da uomini e donne che hanno smesso di puntellare l'impero romano e si sono messe a costruire nuove forme di comunità e di vita e questo è il nostro cioè la trasposizione diciamo sociali di quello che dice il Papa Grazie Allora sulla seconda sul tema dei giovani il linguaggio e poi se tutto il tema dei social e così via è un tema molto importante grande diciamo da una parte sapete perché sono tornate e si sono imposte le serie le serie su Netflix perché hanno diciamo chi studia marketing si è accorto che soprattutto le nuove generazioni i film sono troppo lunghi cioè i ragazzi non guardano un film sono troppo lunghi e quindi li hanno fatto fanno leofilizzato non li fanno di un quarto d'ora così cioè reggono un quarto d'ora cioè la gente regge un quarto d'ora anche le immagini figurarsi un discorso sì sì ma è un altro discorso è un altro discorso che ne ne guardano inizi di fila quella ragione la ragione di marketing per cui le serie sono state in questi ultimi anni lanciate in maniera vorticosa perché poi dopo te le guardi sul cellulare dove vuoi cioè c'è una fruibilità diversa i social la digitalizzazione porta come detto prima nell'ambivalenza nelle grandi potenzialità che si porta dietro porta i suoi pericoli ci sono anche molti studi che fanno vedere che c'è una riduzione della capacità di attenzione molto significativa aumenta il numero di bambini di ragazzini che hanno problemi appunto nel processo di apprendimento il linguaggio in realtà si impoverisce il cellulare ci permette di stare in comunicazione con tutti però sono comunicazioni molto brevi molto sincopate l'esposizione orale diventa complicata di scritti ancora meno tutto è copiato poi adesso con chat GPT è una festa assoluta e quindi diciamo lì c'è tutto un processo adesso c'è un libro che è stato tradotto in italiano da questa neuroscienziata americana che ha fatto degli studi che ha dimostrato ma non c'è difficile capirlo pensando al cervello ad esempio di un musicista piuttosto di un atleta che il cervello che legge l'abitudine a leggere il cervello che legge è diverso dal cervello che non legge cioè si struttura il cervello è come il muscolo prende forma in base all'uso e quindi noi diciamo sono in atto dei processi di cambiamento anche della struttura cerebrale con conseguenze che non riusciamo bene a valutare non necessariamente non unicamente negative ecco però sono in atto dei cambiamenti importanti invece metto insieme la prima la terza io penso così questo è il mio pensiero che negli ultimi nell'ultima parte del novecento e questo inizio del ventunesimo secolo c'è una parte consistente diciamo delle società occidentali la parte ci sono dei conflitti in atto ma c'è un'alleanza per me molto evidente tra parti consistenti degli interessi economici grandi investimenti la spinta continua all'innovazione tecnologica che è una cosa buona quando non diventa ossessiva e tutto il pensiero cosiddetto post comunista progressista dove l'idea è noi adesso siamo in una stagione in cui finalmente ci si può liberare delle delle basi culturali che venivano al cristianesimo noi possiamo far girare le cose con un'etica appunto legata all'io all'innovazione al cambiamento non abbiamo più bisogno di quella matrice lì quindi per me c'è un tentativo di scollamento tra il pensiero non è solo il pensiero progressista ma sono anche pezzi importanti del sistema degli interessi economici e della ricerca scientifica quindi c'è quella componente lì che è molto rilevante a cui appunto fuori dall'occidente dentro l'occidente reagiscono le posizioni tendenzialmente conservatrici ma addirittura fondamentaliste cioè perché la provocazione è molto grande quindi questo è un fatto per me storicamente inedito l'Europa in Europa questo fenomeno è più radicale negli Stati Uniti questo problema questa questione c'è per tutta una serie di ragioni è leggermente meno forte diciamo così ci sono alcune differenze ma insomma non stiamo a sottilizzare dopodiché che vuol dire concretamente questo che se come le ricerche ci dicono dai trent'anni in giù alcuni di voi vengono da Mondicellini il senso religioso per dirla con cioè non è che come quando eravamo noi ragazzi no io sono ateo non credo tu sei credente io sono ateo cioè non è così dai trent'anni in giù è che non esiste più senso religioso cioè di cosa stai parlando adesso sto guardando la partita cioè la questione tra virgolette di Dio non esiste cioè non è nemmeno percepita è irrilevante è una cosa sei strano credi in Dio io credo all'Inter c'è un'altra roba no? ma perché questo? perché ci sono tante ragioni naturalmente un punto per me importante è che noi viviamo in un'epoca noi viviamo la nostra esperienza quotidiana è tale per cui noi vediamo solo uomo noi vediamo solo opera dell'uomo noi siamo in una stanza fatta edificata con il microfono le cose cioè uscendo prendiamo la macchina abbiamo il cellulare cioè noi siamo dentro una specie di capsula in cui il senso religioso nasce dall'esperienza che fino a quando ero bambino era possibile in cui tu sei sulla terra fatta di terra lì c'è il cielo tu sei lì come un pirla e dici cosa ci faccio io qui in questo universo quell'esperienza qui diventa sempre più rara per cui in un mondo in cui tu vedi solo uomo la domanda religiosa non c'è più non c'è più il senso religioso fino a quando magari succedono delle cose no? succede una malattia una morte ti nasce un bambino qualcosa oppure semplicemente invecchi quindi la questione diciamo di come l'esperienza cristiana in occidente ma questo vale anche per altre religioni comunque può rigiocarsi in questa stagione qui è una questione bella spessa ecco io credo che poi la storia non è lineare ci sono dei passaggi dei buchi delle volte sembra che vada lì poi gira dall'altra parte quindi noi non sappiamo come evolve in questo momento la cosa va così può darsi che tutti questi problemi ci diciamo mettano in discussione tutta una serie di posizioni vedremo però la domanda è aperta faccio un esempio un po' radicale e un po' provocatorio no? però per farci capire cioè sapete che come quando siamo stati ragazzi noi è stata un'innovazione tecnologica che ha cambiato radicalmente i rapporti affettivi cioè la pillola ha radicalmente cambiato nel tempo le relazioni tra uomo le relazioni sessuali e le relazioni affettive radicalmente cambiate adesso sapete che è possibile una cosa che fino a quando eravamo ragazzi noi non si passavamo neanche in grado di pensare è il cambiamento di sesso da parte di un ragazzino questa cosa è una cosa che la tecnologia oggi aumento delle possibilità di vita rende possibile è una questione grande come una casa no io che ho una certa età sono un baby boomer di fronte a questa roba qui faccio le domande dico cos'è boh non lo so non capisco non so dire no ecco aggiungo che la posizione che viene espressa e che viene venduta di dire eh sì ragazzino di 12 anni che si sente disagio col suo corpo essendo libero potrà decidere di cambiare sesso e quindi avviamo un percorso terapeutico ormonale fino a quando ecco che noi poniamo come nella cultura contemporanea si sente dire una cosa così a un dodicenne in termini di libera scelta individuale riflette quel problema che dicevo prima cioè se noi ci pensiamo come individui quella cosa lì è la scelta individuale del dodicenne ma io credo che questa visione delle cose sia profondamente sbagliata e profondamente pericolosa dopodiché ho appena finito di dire io non so quella cosa di che cos'è la tecnologia lo rende possibile e quindi noi non possiamo far finta che questa cosa non esista stiamo parlando di una cosa gigantesca cento anni di psicologia ci dicono che la prima cosa che ti succede quando c'è i dodici anni è il disagio col tuo corpo e che quindi se te mi dici a dodici anni che stai male col tuo corpo non è che ti do e tu mi dici di cambiare sesso io ti vengo dietro dopodiché non so che cavolo facciamo no? ecco però noi abbiamo delle questioni ho fatto solo un esempio che veramente io sono veramente sconvolto dal dal semplicismo con cui vengono poste e in cui tu sei spinto sei a favore o sei contro non lo so se sono a favore se sono contro a parte che la domanda è cretina poniamoci delle domande proviamo a capire facciamo un passo per volta ecco però diciamo capite che noi stiamo si pongono delle questioni che sono pazzesche e così cioè tanto poi dopo chi chi i destini di queste persone sono cavoli loro eh perché poi dopo non è che gli si va dietro quando questi gli succederà qualche cosa dopo cinque dopo non è che necessariamente le cose andranno male però cioè questo è veramente un punto importante cioè come l'esperienza religiosa sta dentro questo tempo secondo me è una domanda rilevante scusate ancora se mi allungo ancora di un secondo il tema della relazione significa noi da anni anche qui ritorno nel titolo parliamo di generatività diciamo eh nel tempo individualizzato individualistico c'è un grave problema di affezione qui nessuno vuole più bene a nessuno ovviamente cioè noi non sappiamo più cosa vuol dire voler bene cioè siamo stiamo stiamo diventando diventando degli analfabeti dell'affezione il cristianesimo parla di tra virgolette amore cioè di affezione e che io credo a proposito della tua osservazione no? le forme di vita non sono delle menose questioni diciamo teoriche sono questioni in cui si sperimenta la bellezza e la complessità del volersi bene tra fratelli e del volersi bene e del voler bene soprattutto a chi diciamo nei confronti di chi viene escluso da questa società Papa Francesco non insiste a parte che non è Papa Francesco ma è il Vangelo per cui cioè nel Vangelo non è che si parla continuamente dei poveri perché siano la caritas né ma perché lì è molto chiaro che la fede in Dio non esiste se non c'è l'amore per il prossimo in particolare non tanto e non solo tua mamma tuo fratello e tuo zio a me se non concesso che li vogliamo bene ma se tu non fai l'esercizio del prenderti cura del povero che ti sollecita a imparare questo esercizio dell'amore cioè non c'è il cristianesimo senza questo movimento il cristianesimo senza questo movimento non esiste non è non è una questione della caritas e che le due dimensioni la verticale e l'orizzontale ama Dio come te stai ama ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo le due dimensioni sono inscindibili non si possono separare io faccio spesso questo esempio io ho diversi figli no? e supponiamo che il mio primo figlio fa una carriera brillante fa tante cose bravissimo fa una bella famiglia fa i soldi e supponiamo che un altro figlio invece fa casino si mette nei guai e il primo figlio dice quello là un cretino sarà anche un cretino ma quando il primo figlio viene viene da me e mi dice papà e io gli dico ma tuo fratello dov'è? cioè capite che non ci non ci si potrà presentare dal padre perché ci chiederà dov'è tuo fratello ci hai pensato perché mi chiami padre? non si possono separare le due cose nel cristianesimo questa cosa non si può fare è una cosa che non si può fare ecco il cristianesimo diciamo rispetto a questo tempo ha una forza ha una forza dirompente che non è tanto semplice è giocarla perché questo mondo se ne fotte se ne fotte totalmente l'idea è andiamo adesso leggevo di quel di Jeff Bezos quello di Amazon che adesso anche la sua idea è dato che abbiamo tutti questi problemi la vita futura degli umani sarà fuori dalla terra sarà extraterrestre no ma scusate lo dice seriamente non è che lo dice per scherzo no ma siamo davanti alla follia cioè i cristiani potranno dire che la crescita economica va bene l'innovazione va bene la scienza va bene ma si va avanti col passo del più debole riusciamo a dirla questa cosa e a farla cioè se no che i cristiani siamo ma non ma non perché siamo comunisti cosa c'entra essere comunisti è il Vangelo comunismo è morto e sepolto è stata una grande resiglia il cristianesimo è morto e sepolto ma i cristiani hanno questo da dire a sto mondo no che è la relazione l'ho detto prima con un'altra parola è la stessa roba noi esistiamo solo in relazione in relazione all'eterno in relazione all'altro se no non esistiamo il cristianesimo è questo Papa Francesco si sta dicendo che il cristiano vive nella relazione se no non esiste scusate quindi è l'unica forza di futuro che c'è in occidente su questo non ho dubbi l'unica forza di futuro che c'è in occidente è un cristianesimo che si è capace di rigenerarsi io su questo sono sono convintissimo non vedo nessun'altra forza culturale capace di dire qualche cosa a questo tempo sensata dopo se sarà capace o non sarà capace vedo il vostro paroco non sarà mai capace no sto scherzando dai una domanda semplice sul presente crescono le possibilità di vita proporzionalmente cresce anche la capacità di pensare cresce anche la felicità ma come ho detto prima a proposito della tecnologia secondo me il salto in avanti c'è stato le condizioni di vita sono migliorate io non ho un'idea diciamo di un passato che abbiamo perduto in cui tutto era meraviglioso cioè io non ce l'ho questa idea ma nello stesso tempo è evidente che nonostante questi avanzamenti questi miglioramenti continui diciamo così noi anche perdiamo delle dimensioni io sono vado sempre da diversi anni per tante ragioni cioè per delle ragioni ben precise passiamo il mese di gennaio tendenzialmente fuori dall'occidente in particolare andiamo da da un amico che sta nelle periferie di Nairobi e ci andiamo perché facendo questo lavoro dobbiamo pulirci lo sguardo diciamo così e quindi padre Chizito che è un comboniano che è già da 40 anni che fa queste cose lavora con i bambini di strada ai bordi di questa grande slam che è Kibera che è uno slam dove ci vivono in condizioni dal punto di vista materiale disastroso si stima 600-700 mila persone e tutti gli anni poi andiamo anche entriamo a Kibera e allora non c'è niente di romantico cioè vivere in quel posto lì è uno schifo tanto per spiegarci diciamo lì esistono non esistono i gabinetti esistono le flying toilet le flying toilet vuol dire che tu la fai in un pezzo di carta la fai su e cerchi di tirarla su un tetto per capirci qui non c'è niente di desiderabile non è un posto desiderabile né lì né fuori dall'archivista ma non c'è dubbio non c'è dubbio che lì si sente e si percepisce una vita che qua non c'è più che quando tu esci da lì da quella zona lì torni in occidente ti sembra che qui siamo tutti morti che noi abbiamo una vita molto da tanti punti di vista che loro ci desiderano ma noi perdiamo noi siamo siamo qui in rigiditi non ci abbracciamo non riusciamo più a vedere le sofferenze l'uno dell'altro siamo tutti continuamente presi da 50.000 cose che non si capisce mai di cosa stiamo parlando siamo cioè quindi è chiaro che noi viviamo meglio sappiamo più cose siamo più informati viaggiamo di più benissimo ma perdiamo delle dimensioni chiarissimamente perdiamo delle dimensioni si perdono delle dimensioni dell'umano e quindi e quindi diciamo non è che cioè anche questo è un punto importante questa la crescita è una cosa buona va bene ma chi se ne frega della crescita ma chi se ne frega delle le nostre automobili sono migliori di quelle che avevamo vent'anni fa ma qual è il contributo reale del fatto che c'è l'automobile ma chi se ne frega rispetto alla vita tua cioè qual è il contributo di quella roba lì zero zero cioè capite che infatti uno dei punti che poniamo nel libro no cosa vuol dire più vita cosa vuol dire più vita è giusto il titolo è accrescere la vita ma cosa vuol dire più vita noi viviamo fino a 90 anni peccato che gli ultimi dieci anni siamo completamente rimambiti in una casa di cura ma che senso ha ma cosa vuol dire non si riesce più manco a morire non ti fa morire perché questo è anche un problema non è un problema di eutanasia ma il problema che qui tecnicamente ti fanno battere il cuore fino a 150 anni perché abbiamo un problemino con la tecnica che ormai non riesci più manco a morire è un problema sarà anche il caso che la chiesa se lo ponga perché non è solo accanimento terapeutico ma che è un problema viviamo molto di più peccato che allunghiamo in maniera inverosimile un tempo che boh non si sa bene se sei vivo o sei morto cioè cosa vuol dire più vita questa è una domanda fondamentale cos'è più vita più vita perché capitolo sono partito da lì ho detto crescita economica significa aumentare le possibilità di vita per miliardi di individui oltre al tema dell'individualismo l'altra questione è cosa vuol dire più vita che cos'è che che cos'è che cerchiamo cos'è che abbiamo bisogno per stare meglio questa è una domanda economica anche oltre che politica cioè quali sono i nuovi beni quali sono i nuovi beni di cui abbiamo bisogno ad esempio un bene di cui abbiamo bisogno è capire che l'educazione e la formazione è un bene fondamentale che deve che su cui dobbiamo investire molto più risorse che deve accompagnare le persone tutta la vita perché per stare dentro una società complessa hai bisogno continuamente di cercare di capire in che cavolo di mondo sei finito perché se no sei veramente in balia di tutto intanto per fare un esempio e quello è un bene è un bene certo non è un cellulare per te ma chi se ne frega se c'è il cellulare tra l'iphone 17 non so che numero è e l'iphone 14 è cambiato solo che uno costava 1000 euro e l'altro te lo fanno te lo vendono a 1800 euro e ogni anno tu devi cambiarlo per essere con l'ultimo modello ma sei scemo ecco sei scemo cioè è chiaro? cioè cosa vuol dire più vita? nessuno si realizza col consumo io se vado a fare una bella vacanza se ho una bella automobile sono contento ma non ci si realizza col consumo nessuno si realizza col consumo solo un deficiente si realizza col consumo tu ti realizzi perché riesci a esprimere delle cose tue in rapporto agli altri perché qualcun altro ti apprezza perché tu facendo delle cose fai crescere qualcun altro quello che noi chiediamo generatività cioè quella cosa lì ti rende vivo non se consumi e basta con questi consumi no ma chi se ne frega dei consumi ma dopo di che va bene non c'ho niente contro i consumi ma capite che questa è una questione economica la sostenibilità la sostenibilità non è solo avere le fonti energetiche sì e avere le macchine elettriche sì ma non è rendere tutto più efficiente così tutto sarà ancora più efficiente e noi consumeremo ancora di più in maniera sostenibile dal punto di vista tecnologico la questione della sostenibilità è capire che la tua vita sta in rapporto a tutto ciò che sta intorno a te questa è la questione della sostenibilità prego volevo chiederle gentilmente cosa pensa della scuola adesso in questo contesto e questo lo diranno gli insegnanti che sono no la scuola la scuola la scuola la scuola la scuola allora la dico così che quando diciamo è un po' una forzatura ma insomma quando nell'ottocento sapevano leggere e scrivere il 5 per cento della popolazione i primi che hanno immaginato che bisognasse arrivare a dare l'istruzione a tutti le scuole elementare per tutti e li hanno presi per matti cioè quando sapevano leggere il 5 per cento della popolazione immaginare che tutti dovevano andare a scuola è stato un pensiero cioè capite pazzesco perché quelli la gli avranno detto ma sei scemo ma chi è che paga le scuole maestri cioè una roba folle ecco il problema della scuola noi siamo in quella situazione noi abbiamo fatto abbiamo costruito le scuole la scuola applicatoria ma per come è andata avanti la società noi siamo in una situazione paragonabile all'ora cioè non è che abbiamo bisogno di metterci 5 milioni 5 miliardi in più o un miliardo in più nella finanziaria va bene ma noi dobbiamo capire che in una società avanzata in cui c'è la questione della sostenibilità della convivenza delle culture abbiamo il tema della digitalizzazione se noi non facciamo un salto come quello che sono stati capaci di fare i nostri progenitori cioè di capire che il tema della che non è semplicemente andare a scuola o prendere la laurea è prendersi cura delle persone e metterle nelle condizioni di essere cittadini ecco se noi non noi abbiamo un ritardo che è paragonabile a quello che c'era nel settecento nell'ottocento perché la complessità di questo mondo richiederebbe che investiamo molto più tempo ad aiutarci a capire a essere all'altezza di questa cosa qui e ciao quindi il problema della scuola è che noi l'abbiamo lasciata là dietro e ci sono da una parte degli eroi perché ci sono tanti professori che si fanno in quattro e si inventano ci sono dentro anche tanti lazzaroni tutti se ne fregano basta vedere gli stipendi degli insegnanti delle scuole superiori e scuole alimentari che sono una cosa indegna cioè sono una cosa indegna per un paese civile è una roba che non ha senso ma non è un problema sindacale è che tu non puoi pagare una persona che si prende cura che sono due palle così non è che fare gli insegnanti sia una roba semplice 1300 euro al mese tant'è vero che non ci sono più manco gli insegnanti che scoperte perché appena appena se uno può va a fare un'altra roba ma vi sembra una roba ragioneva vi sembra una cosa sensata poi vabbè certo qui si apre il capitolo questo stato italiano il debito pubblico non entriamo in tante questioni politiche se no non ci salviamo più però il tema della scuola è questo cioè che rimane lì come un relitto abbandonato no e nessuno fa niente quando un paese se non investe lì non ha nessun futuro ovviamente poi ci sono gli istituti tecnici tante cose ovviamente non è semplicemente la scuola nel senso del senso del liceo non sto parlando del liceo eh sto parlando diciamo del prendersi cura delle nuove generazioni ma poi anche della formazione degli adulti cioè appunto prima ho fatto un cenno alla televisione noi spendiamo tutta sta massa di soldi per sta informazione che è un gran casino non serve a niente cioè serve solo per rimbambirci cioè invece di negli anni sessanta ma anche lì non è per tornare all'ora no la televisione aveva un chiaro mandato educativo sia civile sia culturale dopodiché che non è colpa di Berlusconi è cambiato tutto il mondo è arrivata la tv commerciale si è invertito l'ordine dei fattori la televisione è un modo per fare soldi e quindi se è un modo per fare soldi e capite che è un'altra logica perché ti faccio continuamente sempre peggio ti devo fare il programma più cretino che attira più piccioni a mangiare il cibo che gli metto lì e questo è il per cui noi ci lamentiamo dell'inquinamento ambientale ma ci abbiamo un problema grande come una casa con l'inquinamento informativo cioè l'inquinamento formativo è ancora più grave dell'inquinamento ambientale cioè cosa dobbiamo fare amen quindi cioè dopodiché non è per demoralizzarci è per dire che però la battaglia deve essere cioè è una roba seria e cosa vi devo dire l'ho detto prima il mondo ha fatto un salto non ce ne siamo tanti accorti negli ultimi 30 anni 40 anni il mondo ha fatto un salto pazzesco e bisogna partire da quella da quell'idea lì capite cioè veramente abbiamo fatto un salto e adesso non tanto noi che siamo ormai andati diciamo tra virgolette eh più o meno cioè noi va bene cioè non tanto noi ma il problema è che quella roba qui diciamo la passiamo ai nostri figli ai nostri nipoti capite e allora il tema è cercare di renderci conto di lavorare ognuno nel suo campo per creare delle condizioni poi se la dovranno smazzare loro soprattutto cioè saranno poi a fare loro e se la vedranno loro però diciamo le sfide ma poi è sempre stato così nella storia perché anche questo è stato un effetto di rincretimento cioè noi ci abbiamo pensato che ciascuno aveva la sua vita le sue cose costruiva la sua casa aveva il suo lavoro non è così cioè tu c'è la tua casa i tuoi figli e il tuo lavoro ma poi vivi in un mondo e adesso il mondo ti arriva addosso quello che devo farci per cui bisogna studiare sociologia no sto scherzando sociologia lasciata da te microfono per cortesia sì ma arriva arriva dai così io sono un suo assiduo lettore sul Corriere della Sera devo dire che apprezzo di più la sua versione scritta nel senso che questa sera mi è apparso come un pessimista cosmico nel senso che l'analisi è precisa negli scritti suoi di solito trovo molti spunti anche di proposte di ragionamenti positivi stasera è una serata storta voglio prenderla così nel senso che ci manda a casa che strisciamo sul pavimento non che le cose che dice siano come dire fuori luogo ma è un po' come parlava prima del fatto che c'è la tendenza a diventare esagerati il termine giusto era polarizzazione ma non solo si diventa estremisti in qualsiasi cosa che si fa mi pare che lei contribuisca a creare questo clima perché la domanda che mi veniva da farle è ma c'è una prospettiva diversa a quella che lei presenta cioè la possibilità che un pensiero un po' meno drammatico possa essere contemplata tra l'altro nell'ultima parte sua rispetto ai giovani la adombrava perché dice poi il problema ogni generazione ha dovuto affrontarselo per conto proprio perché l'idea che la generazione precedente prepari il posto caldo e via dicendo l'abbiamo superata negli anni in cui si è ritenuto che ogni società ogni generazione deve fare la propria fatica il proprio impegno la propria strada però questo era per dire che continuerò a leggerla no no ma io capisco benissimo la domanda precisa è ma la politica perché se no ci scappiamo via ha una funzione importante in questa dinamica e la risposta lo so che è sì ma voglio dire l'impegno dei cattolici nella politica torna ad essere un elemento centrale o continuiamo a considerarlo residuale come è stato fatto dagli anni 90 in poi io credo che questo sia il problema vero che ci dobbiamo porre perché portare i valori è una bella cosa essere come dire i rappresentanti dell'etica della della dei valori di un certo tipo e via dicendo ma poi dobbiamo imparare a praticarli a trovare le vie perché questi valori si inverino nella società che immaginiamo si sulla questa sulla prima parte capisco quello che lei dice io non sono per niente pessimista se uno guarda il mondo ci sono ragioni per essere terrorizzato ci sono terrorizzati ci sono naturalmente come ho detto inizio tante risorse tante energie tante possibilità viviamo in un momento che conclude un certo ciclo storico se ne deve aprire un altro non sappiamo se e come quest'altro ciclo si deve aprire quest'altro ciclo sarà caratterizzato da tutta una serie di elementi che saranno diversi dal precedente come sempre è stato nella storia ho anche peraltro cercato di far capire e se questa cosa non è emersa sufficiente mi dispiace che c'è una leva fondamentale e positiva che è assumere superare l'idea che è figlia di una lunga storia e che in particolare si è cristallizzata a partire degli anni 60 70 e 80 l'idea individualistica nei diversi piani perché quell'idea lì che ha avuto il suo senso il suo significato ha fatto la sua storia produce tutta una serie di conseguenze e se non si ha la forza prima di tutto culturale di capire in che senso e perché quella visione è esaurita il passo in avanti non riusciremo a farlo la questione del riconoscimento della costituttiva relazionalità che già un secolo fa era stato posto dal personalismo che si riprende nelle mie parole in una luce in un contesto diverso è diciamo l'unica prospettiva che io sono in grado di vedere in positivo io non ho parlato la parola valore non fa parte del mio del mio vocabolario perché non penso che sia quello il piano ma è un problema di prospettiva culturale in questo momento politicamente non solo in Italia a livello internazionale tra le posizioni progressiste che come ho detto per quanto mi riguarda sono schiacciate su una concezione tecnocratica e individualistica non c'è più niente di critico nel pensiero di sinistra non c'è più niente e la reazione polarizzata dei populismi dei fondamentalismi in questa situazione diciamo che non so dove porterà se c'è uno spazio che può venire dalla radice cattolica cristiano da altri per quanto mi riguarda che può interloquire sia diciamo con forze che stanno sulla destra sia con forze che stanno sulla sinistra per quanto mi riguarda è il porre la questione che ha tutta una serie di implicazioni molto concrete del riconoscimento di questa questione della relazionalità della vita che apre tutta una serie di conseguenze che vanno poi naturalmente declinate quindi sul fatto che siamo in un momento storico in cui non si sa da che parte guardare perché ci sono tantissimi problemi ma che nello stesso tempo abbiamo tantissime risorse tantissime capacità tantissime intelligenze ma che non abbiamo nessun orientamento secondo me questa cosa è chiarissima non so se questa cosa vi suscita ansia non so cosa farci ma basta che uno guarda nella realtà io però non sono pessimista sono convinto che gli esseri umani siano intelligenti ci si arriverà non so dire se e come ci si arriverà cioè se dovremo passare attraverso dei disastri per imparare io siamo abbiamo vissuto tutti tre anni fa la vicenda del covid vero che è stata un'esperienza a parte che il 31 dicembre 2019 ci avessero raccontato che saremmo stati in lockdown tre mesi dopo non ci avremmo creduto è stata un'esperienza pazzesca collettiva in cui abbiamo visto alcune cose precisamente le abbiamo toccate e in particolare abbiamo toccato che tutti eravamo collegati attraverso il respiro che essere chiusi in casa voleva dire sentirsi in carcere che avevamo bisogno degli ospedali quindi questa cosa della relazione è stata evidente finito il covid il mondo è peggiorato perché lo slogan è stato ripartire 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 è partito il film tecnologico è scoppiato il casino internazionale quindi un'esperienza collettiva che avrebbe potuto drammatica che ci ha fatto vedere ci ha fatto vedere la realtà di questa dinamica relazionale non ha prodotto effetto quindi questo mi lascia molto sconvolto perché temo che la capacità della nostra società di capire il punto sia molto bassa perché se non abbiamo capita lì ragazzi quindi io penso che non ci sia tanto da essere ottimisti ah certo è una cosa diversa però è una cosa molto diversa e io sono stato per fortuna educato e sono contento che i miei genitori mi hanno dato così che porre le questioni anche radicali sia il presupposto per sperare di affrontarle noi abbiamo davanti questioni molto grandi e bisogna secondo me dire alle persone voi poverete vi è andata male appunto stasera che le questioni che abbiamo davanti sono molto serie e bisogna finirla di dire che che così che è una roba sì perché poi tutto il discorso va va bene va bene poi comunque ci salverà la tecnica la tecnica non ha mai salvato nessuno sono tutti nelle tombe fino a prova contraria dopo di che la tecnica ci serve la tecnica non ci salva la tecnica è uno strumento è un'altra cosa la vita delle persone si salva non dalla tecnica prego certo non era tommaso che diceva che viene su una civiltà solo sulla fiducia certo sì sì la fiducia è un bene preziosissimo che si costa è molto ci vuole molto tempo a costruire la fiducia ci vuole pochissimo tempo naturalmente a smagliarla senza fiducia non si va da nessuna parte e noi però viviamo in un mondo in cui abbiamo deciso che la fiducia non serve a niente infatti basta vedere diciamo il digitale si propone come un sostituto funzionale della fiducia nel senso che noi facciamo parte lo vedete anche nella realtà concreta nella realtà economica no o nel rapporto tra lo stato e il cittadino cioè la fiducia sembra che non permetta di vivere in una società complessa come la nostra e questo è drammatico vale anche nel rapporto tra vedete in questa violenza anche ce n'è nelle scuole no questi insegnanti che sono aggrediti tu dai dai un quattro a un ragazzo arriva il genitore che dice lei come si permette di dare quattro mio figlio che i genitori che non ho più nessuna fiducia nei confronti di per fare degli esempi quindi noi viviamo in un'epoca in cui l'abbiamo l'abbiamo sventrata sta fiducia e ricostruirla è una roba complessa però ragione lei che senza fiducia non si va da nessuna parte sia fiducia interpersonale sia fiducia nei confronti delle istituzioni sia fiducia nel futuro nel senso di sapere che la strada è complessa ma ci abbiamo una direzione da raggiungere no che ci abbiamo una prospettiva da raggiungere il problema è proprio questo qual è la prospettiva qual è la prospettiva chi parla di una prospettiva salvo la tecnologia chi parla di una prospettiva io ne sento pochissimi allora il discorso che ho cercato di fare stasera è un discorso di prospettiva in un mondo in cui noi riconosciamo questo legame costitutivo e la nostra libertà si gioca nel modo in cui tu fa esistere i legami in quali legami fa esistere se tu fa esistere legami di oppressione o legami che liberano te e altri ma questa è una sfida di futuro che rende possibile immaginare una società migliore di quella che abbiamo costruito noi come tutte le generazioni diciamo non abbiamo tutti la stessa età dobbiamo riconoscere che il ciclo della nostra vita ha portato tante cose buone ma palesemente tante cose non avevamo capite come evidente e quindi ai giovani credo che dobbiamo riconoscere dire noi ci abbiamo provato alcune cose le abbiamo capite evidente che tante cose non abbiamo capite secondo noi la sfida è quella lì provate a giocarla noi possiamo aiutarvi ma il discorso che ho fatto stasera è un discorso che guarda al futuro non che guarda al passato e ripeto la frase fondamentale è questa cioè che da cento noi abbiamo un ritardo perché da cento anni ripeto la scienza le religioni lo dicono da qualche secolo da qualche millennio lo dice per altri versi la psicanalisi cioè la scienza ci dice che non c'è forma vivente sulla faccia della terra che non sia in relazione questa frase che vale per la fisica la biologia che quindi fa parte del nostro bagaglio delle conoscenze del 2023 noi non riusciamo a declinarla nella nostra vita economica sociale dove invece continuiamo a pensare che esistono degli io esistono delle imprese esistono degli stati dove ognuno esiste per conto proprio questo pensiero è un pensiero assurdo lo ripeto è stato importante storicamente perché ha avuto dei meriti ma ha esaurito la sua spinta noi la grande sfida che abbiamo davanti l'ho detto tutta la sera è riconoscere questa costitutiva relazionalità che diciamo tra l'altro diciamo nel pensiero cristiano è noi non siamo una religione monoteista ma siamo una religione trinitaria cioè della relazione che è una cosa diversa no e quindi questo è un tema grande come una casa e che se viene declinato ci facciamo giù la lista delle cose che possiamo cominciare a fare se se partiamo da questo presupposto e se invece superiamo il presupposto adesso per farla semplice del sessantottino che dice io esisto me ne frego di tutti il mondo lo voglio fare come dico io no con buon rispetto del mio amico di cui soffro di un'invidia bestiale per il successo che ha avuto massimo recalcati che parla del desiderio che certo che il desiderio che l'abbiamo scoperto nel novecento è importante ma se tu per il desiderio di altro come 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 dice quel pensiero ma questo altro non c'è mai quello lì il problema che che si dice che il desiderio di altro ma sto altro non c'è mai e questo il problema il problema è l'altro certo che desideriamo l'altro ma l'altro è tuo figlio che rompi palle il tuo vicino che rompi scatole il povero che ce l'hai lì allora il desiderio di altro è che tu giochi il tuo desiderio in relazione all'altro e la tua vita prende forma in relazione all'altro che resta altro è certo e ma questo è un salto culturale capite cioè questo è il salto culturale è quello che il povero papa francesco sta cercando di dirci da dieci anni lo continua a dire non è che parla della caritas ma chi se ne frega della caritas e lo continua a dire in tutte le salse e se i cristiani si rendessero conto diciamo che c'è una sfida grande come una casa e si mettessero a fare qualche cosa magari succederebbe magari qualcosa potrebbe succedere no dov'è che vedete una radice culturale che riesce a porre questa questione non c'è appunto c'è la polarizzazione da una parte quelli che ti dicono che c'è l'io che va per conto suo e quelli altri che ti dicono ci chiudiamo contro tutti c'è che è una forma regressiva di pensare il legame no cioè da una parte non c'è il legame dall'altra parte c'è il legame chiuso appunto non non si riesce a capire che noi siamo insieme liberi e legati questa è la caratteristica dell'umano noi siamo liberi ma nello stesso tempo siamo sempre anche legati e la nostra libertà si gioca nel legami che facciamo esistere generare libertà vuol dire che noi la libertà la possiamo generare non solo rivendicare se io sono un piccolo imprenditore che ho cinque lavoratori questi lavoratori possono essere i miei schiavi io posso farci soldi sui sui sulla loro fatica o posso trattarli come umani farli crescere promuoverli è chiaro questo vuol dire generare libertà concretamente di conseguenza certo no cioè proprio perché siamo il tema della responsabilità che è fondamentale ovviamente no cioè noi siamo proprio perché siamo sempre liberi legati e abbiamo anche la possibilità di rompere i legami ad esempio di lottare contro i legami oppressivi se tu c'è un padre che che diciamo che fa il dominus e giù o la donna è completamente qualcuno avrà visto fin dalla cortellesi è giusto ribellarsi contro i legami oppressivi non è che il legame sia buono il legame può essere anche malvagio è chiaro non è che il legame buono il legame può essere anche malvagio quindi tutta la modernità c'è un grande valore la modernità ci ha insegnato che bisogna lottare contro i legami malvagi ma il problema che la modernità quella roba lì la tira fino alla fine e sembra che l'unica cosa che puoi fare è liberarti dai legami l'ho detto prima invece c'è la pars d'instruens lottare contro i legami oppressive dopodiché tu una volta che ti sei liberato qualunque cosa tu fai qualunque cosa tu fai non fai altro che ricostruire dei legami con altri metti su un'impresa fai una famiglia crea un'associazione qualunque cosa fai ha a che fare con altri allora la responsabilità è tu nell'esprimere la tua libertà quali quali legami fai esistere e se e secondo noi c'è un altro punto se tu dici come io dico come il cristianesimo che era la regione della libertà non è la cristianesimo è la regione della libertà se la libertà ci qualifica e ci è ciò che ci distingue come dalla dignità di ognuno di noi quindi io rivendico il fatto di essere libero e quindi rivendico il fatto di avere uno spazio di espressione di libertà allora nel manifestare la mia libertà se io non voglio contraddirmi in quanto libero io non posso che esprimere questa libertà in maniera tale che anche altri possano godere di quel bene fondamentale che qualifica a me stesso che la libertà e quindi nell'essere libero io mi devo preoccupare che la mia libertà transiti su altri questa cosa qui non la dice nessuno perché il tema è solo della mia libertà che mi devo liberare io il problema che noi ci liberiamo ma qualunque cosa facciamo ripeto noi costruiamo continuamente dei legami allora la responsabilità e quali legami tu fa esistere nel mondo e questo è il pezzo di discorso che io penso diciamo culturalmente che ha poi implicazioni politiche economiche culturali come questa cosa possiamo declinarla perché tutto invece il discorso che sentiamo intorno a noi e che tu sei libero e che noi non siamo abbastanza liberi perché non ci siamo ancora abbastanza liberati che è un delirio totale è un delirio totale perché nessuno si può liberare radicalmente ho fatto l'esempio del ragazzino di 12 anni per dire che che lui è libero in un contesto tecnologico che non ha scelto no ci sono grandi interessi ci sono grandi cose non è che libero così che noi siamo liberi sulla luna noi siamo liberi rispetto a te a delle cose che che ci stanno intorno comunque come la pianta sta nel terreno non è che noi siamo liberi così a prescindere e quindi in quanto liberi dobbiamo prenderci cura dell'ecosistema l'ecosistema è una condizione della libertà ma questo l'abbiamo salutato tanto tempo fa l'ecosistema l'ecosistema sociale tendo a dire no i liberi hanno a cuore che nel linguaggio tradizionale è il bene comune che non si può dire più bene comune si può dire e prendersi cura dell'ecosistema no in quanto libero tu capisci che l'ecosistema importante per la tua libertà e per la libertà degli altri non è che puoi pensare solo la tua libertà ma che ragionamento è quindi è fondamentale grazie professor magatti mi pare che si sia messo in moto il pensiero potremmo andare avanti ancora a far domande ma allora mi pare che non ce lo consenta però possiamo continuare a pensare a ritrovarci a riprendere queste cose a gruppetti un po il compito che ci diamo penso che sia una cosa utile perché se no come spesso capita grandi intuizioni poi si muore lì siamo in relazione con la bcc che ci ospita che ci ha ospitato e che ringraziamo anche questa sera e poi è arrivato anche il mio alter ego che è don marcello che invito a venire qui per fare un saluto una conclusione vieni qua materializzati perché se no sono da solo sono un individuo sono una monada e invece così si capisce che siamo in relazione sono arrivato proprio alla fine perché arrivo da Sisi ho finito la settimana di esercizio spirituali grazie ancora al professor magatti per la sua presenza mi scuso per non essere stato presente fin dall'inizio grazie a tutti voi mi unisco a quello che ha detto poco fa don roberto credo che questi incontri ci ci invitino davvero a continuare a lavorare a pensare dei laboratori dove il nostro pensiero il nostro mettere insieme la passione l'attenzione la cura la cura per il bene di tutti per il bene comune ci debba ci debba davvero vedere impegnati a cercare il bene ed è quello che credo che tutti noi questa sera siamo qui e in queste sere abbiamo cercato grazie ancora a tutti grazie 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 grazie